Ciao a tutte, oggi sono qui per registrare un videotag che ho visto sul canale di Eleonora Manni che lei ha fatto in collaborazione con un'altra ragazza è il videotag dei 10 prodotti preferiti per occhi, low cost, quindi sotto i 10 euro comincio subito e il primo prodotto di cui vi parlo e di cui vi ho già parlato anche è un primer ed è il primer Isle of Stage della Essence come sapete, se avete visto i miei video precedenti in cui ve ne ho parlato a me questo primer piace perché funziona sostanzialmente quindi per me è efficace, mi fa durare la maggior parte degli ombretti in mio possesso tutto il giorno senza che vada nelle pieghette, senza che mi crei nessun problema è economico, facilmente reperibile e un'altra cosa che mi piace è che non è trasparente ma è colorato come se fosse un correttore quasi per cui, dato che io ho la pelle sulle palpebre molto sottile che mi evidenzia i vasi sanguigni sottostanti il fatto che questo correttore sia colorato e quindi mi vada a coprire le venuzze per me è l'ideale quindi sicuramente questo è sicuramente uno dei 10 prodotti per occhi miei preferiti assolutamente poi, sempre per quanto riguarda, diciamo, la base per creare una base che sia alternativa al primer sicuramente sono molto molto validi i matitoni ombretto io qui ne ho alcuni di, sono quasi tutti di Kiko tranne questo che è di Wicon e questo qui apparteneva ad una collezione, ad una limited edition gli altri invece appartengono alla collezione permanente comunque ne ho presi, alcuni a caso ne ho di più però a me questi matitoni piacciono molto durano tantissimo sicuramente si possono usare sia da soli che come base per un ombretto che abbia più o meno le stesse tonalità non vanno nelle pieghe a me non irritano gli occhi cosa dire vengono venduti ad un prezzo medio di 6,90 euro ma spesso si possono trovare in offerta fanno risaltare molto il colore dell'ombretto che c'è andata a mettere sopra ma ripeto, si possono usare anche tranquillamente come ombretti da soli magari spolverandoli solo con un po' di cipria sopra in modo che si fissi la parte cremosa e secondo me sono davvero ottimi altri ombretti in crema che mi piacciono molto sono questi qui nella pot quindi nella giardina di Wicon io ne ho comprati due influenzata sicuramente dal video di recensione molto positivo che ne aveva fatto Clio io ho comprato il numero 10 e il numero 11 che sono in realtà molto simili tra loro ma questi veramente vedete questo color rame rosato con un po' d'oro insomma questo qui è molto bello questo colore e soprattutto è una mousse quindi non è proprio un un ombretto in crema ma è proprio in mousse quindi una consistenza ancora più leggera degli ombretti in crema e una volta che si fissa sulla palpebra non lo muovete più praticamente dovete solo andare a rimuoverlo con lo struccante perché assolutamente non si muove più per tutta la giornata ho scelto questi colori perché secondo me stanno bene con i miei occhi verdi prezzo di vendita da Wicon 6,90 euro quindi anche qui siamo abbondantemente sotto i 10 euro poi per proseguire nell'ambito degli ombretti sicuramente come ombretti mono singoli non potevo non citare gli water eyeshadow di Kiko ne ho presi due a caso ne ho 8 o 9 credo allora questo bellissimo arancione rosato con del vago senso di corallo il 219 questo il 230 vediamo che colore è non mi ricordo più ah ecco questo bel grigio antracite allora questi ombretti sono fenomenali si possono usare sia da asciutti che da bagnati da bagnati ovviamente rendono il massimo del loro colore sono super brillanti super duraturi sono meravigliosi hanno delle colorazioni fantastiche il loro prezzo di vendita solitamente è 8,90 euro ma spesso si possono trovare anche in offerta a 5,90 euro infatti quelli che ho li ho sempre comprati in offerta non li ho mai presi a prezzo pieno e pian piano credo che completerò più o meno la collezione perché davvero mi piacciono tutti questi colori sono meravigliosi poi come palette allora come palette economiche ne cito di due marche allora sicuramente la MUA che ha fatto vabbè lo sapete la Undressed e l'Undressed Me Too che sono queste due che sono il dupe rispettivamente della Naked e della Naked 2 che quindi hanno questi 12 ombretti ciascuna costano tipo sui 5 euro più o meno e le trovo validissime in più della MUA avevo preso anche una palette colorata che si chiama Glitter Ball e anche con questa mi trovo molto bene sempre 12 ombretti per il costo di circa 5 euro quindi queste sicuramente super promossissime e super economiche ma vi cito anche la Makeup Revolution di cui ho preso ho provato a prendere questa palette sempre sui toni nude questa non è un dupe di niente si chiama Disappear Till Tomorrow eccolo qui il suo nome mi piace tantissimo perché ha 14 ombretti che come vedete hanno diverse finiture ce ne sono alcuni opachi alcuni perlati alcuni decisamente shimmer ma in più hanno questi due ombretti opachi per le sopracciglia e se vedete qui cominciano ad essere scavatini qui verso il centro perché io in effetti puccio il pennellino per farmi le sopracciglia un po' dall'uno un po' dall'altro perché questo sarebbe un po' troppo scuro per le mie sopracciglia questo evidentemente è troppo chiaro quindi io faccio un mix di tutti e due e trovo che sia assolutamente molto valida pagata 5 euro sul sito di Makiaia 4,99 euro come vedete molto compatta ha tutti i colori nude che possono servire per fare un look abbastanza completo perché c'è anche il nero c'è l'illuminante insomma c'è un po' di tutto poi appunto ci sono i due opachi per le sopracciglia io con questa palette mi sto trovando veramente molto molto bene e ce ne sono veramente tantissime sul sito di Makiaia che appunto ha iniziato da poco a vendere questa marca per cui come palette sicuramente M.O.A. e Revolution sono palette molto molto valide e molto molto economiche poi iniziamo il settore matite per occhi allora come matite con buoninci sicuramente non potevo non citare chiaramente quelle di neve io qui ne ho prese tre non credo di averne tante di più forse ne ho un'altra ho preso quelle che ho trovato subito e ho la avorio beige che è quella che uso nell'interno dell'occhio la melanzana purple e la ebano brown eccole qua allora io con queste matite che dovrebbero costare intorno ai meno di 5 euro comunque sui 4,90 4,80 una cosa del genere mi trovo benissimo allora intanto questa che appunto usa all'interno dell'occhio è una delle pochissime matite che scrive all'interno dell'occhio e rimane lì perché avendo io una lacrimazione medio alta di solito è raro che le matite se non le fisso con qualcosa tipo con un ombretto con una polvere restino lì cioè è praticamente impossibile invece questa rimane ma in ogni caso che siano all'interno o all'esterno dell'occhio queste matite comunque durano hanno un buoninci costano poco sono morbide sono facilmente sfumabili quindi sicuramente non potevo non inserirle in questo video mi piacciono molto come matite diciamo automatiche queste qui che si girano esce la mina diciamo e hanno anche il loro sfumino con dietro il temperino sicuramente queste di Kiko anche qui ne ho presi tre colori a caso e forse sono anche gli unici che ho non lo so comunque io ho un grigio un colore ottaneo meraviglioso e questo borgogna che sono magari vi dico anche i numeri se vi interessa allora il 714 715 711 eccole qua allora io con queste matite mi trovo benissimo non mi bruciano gli occhi sono molto facili da stendere quando la punta si fa troppo rotonda appunto hanno il loro temperino al momento sinceramente non mi ricordo quanto costano perché queste le ho acquistate diverso tempo fa ma sono sicura che sono abbondantemente sotto i 10 euro quindi nessun problema a me piacciono tantissimo queste matite e due matite che ho comprato ultimamente che vanno nella sezione matite waterproof sono sicuramente le nuove matite gel della Essence allora prezzo io allora queste due le ho acquistate non in negozio ma sul sito di Machiaia sui 3-4 euro non mi ricordo sinceramente comunque le trovate sicuramente in tutti i negozi perché sono uscite da poco io ho comprato il marrone e il color ottanio l'ottanio ritorna tra l'altro perché è un colore che mi piace molto queste matite sono fenomenali allora ci vuole un po' di precisione nello stenderle perché una volta che si asciugano non le muovete più da lì nel senso che non sono sfumabili ecco dovete intenderle come degli eyeliner sostanzialmente perché quindi ci vuole un po' di precisione nella stesura perché una volta stese basta è finita rimane solo lo struccante bifasico perché appunto sono waterproof e quindi non si smuovono da dove le mettete non solo funzionano benissimo benissimo anche nell'interno dell'occhio io le ho provate più volte nell'arima interna e non mi hanno bruciato assolutamente e sono rimaste lì tutto il giorno per cui io di queste matite non posso che parlare bene sono economiche facilmente reperibili quindi sicuramente perfette per questo video scusate ho dovuto interrompere perché mi è arrivata una telefonata poi faccio taglia in colla col video allora per quanto riguarda i mascara un mascara economico abbondantemente sotto i 10 euro credo che sia anche abbondantemente sotto i 5 euro è il mascara di Essence Lashmania Reloaded effetto ciglia finte allora questo mascara io lo adoro letteralmente non è un acquisto recente perché questo è uscito con le novità l'autunno scorso io lo devo aver comprato intorno a ottobre più o meno dell'anno scorso lo sto ancora utilizzando con molto piacere perché è ancora molto cremoso fa ottimamente il suo mestiere è nero bello nero intenso ha lo scovolino è molto efficace e che si piega che è una cosa che mi fa sempre molto ridere e niente lo trovo fantastico è aperto da mesi ma è ancora super cremoso quindi non non rilascia sapete quelle bricioline a fine giornata che vi ritrovate tutte stampate sull'occhiaia allunga non fa proprio un effetto molto volumizzante ma allunga in effetti fa proprio l'effetto ciglia finte io sono fortunata perché ho di mio le ciglia abbastanza lunghe e quindi questo le va ad enfatizzare fa un effetto piuttosto drammatico mi piace tantissimo non mi ricordo il prezzo preciso ma siamo credo sotto i 4 euro o forse intorno ai 4 euro insomma è sicuramente un mascara economico come tutti mascara di di essence ma questo è decisamente e senza ombre di dubbio il mio preferito ultimo prodotto sempre di essence sempre ovviamente super economico è il pennellino per l'eyeliner cito solo questo e non i suoi colleghi che comunque ho comprato che vi faccio vedere ma che non volutamente non ho inserito in questo video perché questi non mi piacciono questo è quello da sfumatura e questo è quello per l'applicazione dell'ombretto questi qui non mi piacciono perché dopo un paio di lavaggi sono diventati pungenti applicare l'ombretto o sfumarlo con questi pennelli qui lo faccio solo quando tutti gli altri sono sporchi quindi proprio come ultima possibilità perché questi non mi piacciono invece questo qui nonostante i lavaggi nonostante l'utilizzo prolungato eccetera è rimasto morbido è rimasto assolutamente efficace nel suo uso vedete è piuttosto sottile per cui permette anche di fare una linea molto molto sottile di eyeliner anche questo l'ho comprato un secolo fa non mi ricordo quanto costi ma pochissimo sicuramente e quindi con questo prodotto che a me piace tantissimo concludo questo video fatemi sapere quali sono i vostri prodotti preferiti per occhi sotto i 10 euro io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video ciao